Sì, è un ufficio, io sono sommerso dal lavoro, sai, devi soltanto entrare lì e in dalle quei, quindi, almeno ho finito, andremo da presto di pranzo, d'accordo? Perfetto, grazie, scusa, lo parla io, ma sono occupato, sono molto occupato, posso aiutarla? Non mi dico, eh, non mi dico, eh, non mi dico, basta, quindi dovete un magasso. Grazie! Alberto Dolina, io sono Willen. Oh, giusto, nessuno è perfetto. Ciao Willen. Ciao.